Ciao, sono Luca di Mr. Gadget. Capita sempre meno spesso di parlare di tecnologia prodotta in Europa, più che altro disegnata in Europa. Ed è per quello che mi piace spesso affrontare quelli che sono i prodotti di un marchio spagnolo chiamato BQ. BQ è presente nel mondo degli smartphone, nel mondo della robotica e anche in quello della stampa 3D. Ci sono quattro nuovi modelli in arrivo. Questo è uno di quelli, si chiama BQ Aquaris V. Ecco dunque il nuovo BQ Aquaris V, che è uno smartphone che arriva a una delle due versioni della linea V. Torniamo a vedere il telefono dopo, adesso guardiamo cosa c'è dentro la confezione, apriamo l'aletta che mostra il caricabatterie con il quick charge, il piripacchiolo per accedere allo slide della sim e poi il cavo per la connessione dati. Non ci sono delle cuffie dentro la confezione. Allora abbiamo detto doppia sim, doppia sim da inserire in questo cassettino, cassettino dove ci possono stare due sim oppure una sim e una micro SD. Parte superiore con l'attacco per le cuffie da 3 mm e mezzo, mentre vedete su questo lato il volume rocker, il controllo del volume, e poi il pulsante d'accensione. Sulla parte posteriore il sensore fotografico, che tra l'altro è un sensore Sony, ma poi ci torniamo, quello per le impronte digitali e nella parte inferiore microfono, connettore che curiosamente è un connettore micro USB e poi l'altoparlante. Allora, diciamo subito che questo è un telefono con un display da 5,2 pollici, c'è una batteria da 3100 mAh, c'è il quick charge di Qualcomm e la versione più semplice, quella da 16 GB di memoria con 2 GB di RAM, arriva ad un prezzo di 219 euro. A partire da 219 euro c'è poi una seconda versione invece con 32 GB di memoria e con 3 GB di RAM. Allora, dentro questo telefono c'è Android 7.0, lo andiamo a controllare immediatamente, vedete Android, addirittura, scusate non 7.0 ma 7.1.2, questo è l'aggiornamento a bordo, ma verranno questi telefoni aggiornati quanto prima ad Oreo. Il processore di questo telefono, discretamente veloce nel funzionamento, lasciamo insomma che il telefono carichi la pagina, vedete, processore veloce, lo Snapdragon 435 che gestisce il telefono con dei consumi veramente molto, molto parchi. Consumi così parchi significano anche che con una batteria da 3.100 mAh potete stare belli sereni per un bel po' di tempo. Display, abbiamo detto 5,2 pollici con una razio 16 noni, definizione HD con 283 pixel per pollice, la luminosità massima è di 520 nits e tutto sommato un display discreto insomma per il posizionamento di prezzo, tenete conto che la versione Pro invece avrà una dimensione da 5,5 pollici. Sul retro, sensore fotografico Sony IMX386 da 12 megapixel con Big Pixel, quindi con dei pixel più grandi in grado di catturare più luce e di dare risultati migliori. A proposito di fotocamera vi mostro immediatamente quelle che sono le funzionalità che trovate, vedete la possibilità di fare uno scatto in manuale, quindi di poter controllare tutti gli aspetti della fotocamera, oppure la modalità automatica o ancora la modalità con le scene in cui potete scegliere essenzialmente fuochi d'artificio, azione e le varie modalità che avete a vostra disposizione per lo scatto. Non solo, potete scegliere anche il tipo di situazione in cui voi andate a scattare, poi la possibilità di gestire quelle che sono le dimensioni delle immagini, ma questo lo sapete, è una situazione che troviamo spessissimo. Nella parte superiore invece decidete essenzialmente quale modalità di scatto avete. Vedete che con i motions avete il fast motion, avete il time lapse e poi avete lo slow motion, quindi queste le possibilità. In questo modo andiamo a settare quella che è la dimensione delle immagini che vengono scattate, c'è un formato panoramico per lo scatto e anche vedete sulla fotocamera la possibilità di stabilire le griglie, mettiamo ad esempio, vedete, l'automatismo con l'automatico, avete anche l'HDR che può essere HDR plus, vedete qui, questo riduce leggermente il tempo di messa a fuoco e di scatto della fotocamera, ma risultato fotografico più che buono. Ecco, vedete, con l'HDR plus è leggermente più lento lo scatto, se invece io ad esempio metto anche l'HDR normale, vedete come l'elaborazione, sì, più o meno siamo lì, però è leggermente più veloce. E l'immagine, allora, non ha una fedeltà del colore altissima, perché guardate cosa c'è sotto e guardate cosa c'è dentro, è qui, però probabilmente il verde diciamo che non aiuta nel trovare un bilanciamento del colore. La messa a fuoco è ovviamente automatica, la risoluzione dei video è di 1080 pixel per i video a 30 frame al secondo, se fate invece uno slow motion avete 480 pixel per 120 frame al secondo e potete fare anche lo scatto in formato RAW. La porta micro USB è anche OTG, supporta lo standard OTG, potete mettere delle micro SD con una capacità fino a 256 giga, quindi questo è quello che vi offre il nuovo Aquaris V. Come detto c'è anche un sensore frontale di fotocamera, ovviamente questo di Samsung da 8 megapixel per l'esattezza con un'apertura 2.0. La differenza tra le due fotocamere è che la fotocamera frontale ha 4 lenti, la fotocamera posteriore di Sony invece ne ha 6 per una qualità diciamo delle immagini che sia superiore. non ci sono, adesso vi faccio sentire l'audio di questo telefono, ascoltando se per radio number one, vedete questo è la sorgente dell'audio, è un audio piuttosto alto, non ha una definizione elevatissima dei bassi, però diciamo che una discreta qualità. Tempo di reazione del telefono, qualunque cosa che decidiate di fare, vedete, discretamente veloce, in qualunque attività che vogliate mettere in pista del telefono. C'è la radio FM all'interno, scusate vi mostro, c'è la radio FM che è un altro dettaglio sempre importante, il Bluetooth supporta lo standard APTX che è ovviamente sempre utile per una qualità, un trasporto dell'audio migliore nel suo complesso. Insomma abbiamo visto che è un prodotto completo con un materiale molto gradevole anche al tatto che è materiale metallico, il nuovo BQ Aquaris V come detto arriva a 219 euro nella sua versione normale, nella versione V Pro invece avrà un prezzo a partire da 269 euro ma un display da 5,5 pollici e anche una dotazione che parte da 3 giga di RAM con 32 giga di memoria o con 64 giga di RAM e 4 giga di memoria. Insomma BQ si conferma un outsider interessante, prodotti sempre molto eleganti e vi ricordo sempre Design in Europe.